Ragazzi buona giornata a tutti, allora signori si nasce e anche sul calciomercato lo si dimostra di esserlo alla fine Perché dico questo? Perché la Juventus con Cristiano Ronaldo si è comportata molto bene Nel senso che Mendes aveva detto alla Juventus ragazzi guardate la trattativa non è impossibile, si può fare Però lasciatemi fare a me, la Juventus da quando Mendes ha detto quello, la Juventus si è fatta totalmente da parte E ha lasciato lavorare Mendes con Perez perché c'era questo accordo verbale, la Juventus non ha più trattato con Ronaldo A parte l'ultimo giorno nel quale Agnelli è andato da Ronaldo, hanno sistemato le ultime cose e dovevano semplicemente ufficializzare il tutto Per questo il Real Madrid e la Juventus hanno un ottimo rapporto Perché bisogna rispettare le trattative, bisogna rispettare anche la società nella quale quel giocatore è Cosa che l'Inter non ha fatto e continua a non fare con Modric ad esempio Perché? Perché lì, adesso non so se c'è questo accordo verbale pure lì Però se stanno trattando fino a che Modric non si libera dal Real Madrid e Perez dice Ok, tu vuoi andare via, puoi andare via, trovami una squadra che mi porta questi soldi qui Tu non puoi trattare col giocatore e stare lì ad aumentare l'ingaggio di Modric Quando tra l'altro tu sei con l'acqua fino al collo, con questo fair play finanziario come l'altra milanese Però non so come cazzo voi facciate veramente Ci sono società qua, ripeto, dovete incazzarvi Non perché Ronaldo è andato alla Juventus Una società, una squadra che vince da 7 anni di fila Ha un progetto vincente È partita da meno 100 milioni di debiti E si è fatta il culo senza sceghi dietro Senza banchi dietro Si è fatta il culo per diventare quello che è adesso E per vincere 7 anni di fila E portarsi a casa dopo 7 anni di fila Un certo Cristiano Ronaldo No, questi qui non vincono un cazzo da 7-8 anni Hanno i cinesi, i sciicchi dietro Arrivano e sbossano soldi Che tra l'altro con questo discorso del fair play finanziario Per loro, purtroppo per loro Devono fare prestiti con diritti di riscatto E neanche con obbligo Vabbè, comunque a parte questo L'Inter non si sta comportando bene con il Real Madrid Perché sta continuando a trattare Modric Quando Modric e Perez devono ancora incontrarsi In teoria si incontreranno oggi E parleranno di questa cosa qui Da questa, da questo incontro Uscirà la volontà di Modric E la volontà di Perez E poi si saprà di più Ma dopo questo incontro Tu devi fare Tu puoi fare la tua mossa Ma fino a che non c'è questo incontro Dal quale non è detto che poi Esca la volontà Sia di Real Madrid Sia di Modric Di andarsene Di liberarsi Insomma Di separarsi Ecco Fino a che non c'è questo incontro Tu devi stare zitto Sperare Che appunto Perez liberi Modric Però fino a quel punto Devi stare zitto Come ha fatto la Juventus Per un certo Ronaldo Perché fino a che Real Madrid Non ha dato il via libera Ok Comendez e Ronaldo Avevano già l'accordo Nel senso che Hanno detto Ok Qualora Qualora Ronaldo Si liberasse Noi I 30 milioni All'anno Ve li diamo Hanno detto semplicemente questo Però Non hanno continuato A dire A ribadire A contattare Ronaldo A contattare Mendes A fare pressing Su Real Madrid Perché l'Inter Sta facendo pressing Su Real Madrid A cercare di giocare sporco Anche Perché l'Inter Sta facendo questo La Juventus Ha fatto Lavorare Mendes Perché qualora Ronaldo Avesse Detto No guardate Ci ho ripensato Rimango a Real Madrid La Juventus Non avrebbe Calcato il polso Invece L'Inter Sta facendo questo Infatti In Spagna Si stanno accorgendo di questo Infatti Ci sono A parte questo commento Che vi lascio Qui Ma ce ne sono tanti altri Nei quali Stanno dicendo Che la Juventus È una signora società E l'Inter È una Merda Una merda Perché Questo è Questo Purtroppo Questo ne esce Quindi Vedete anche qua Poi c'è un altro Che ha ribadito Un altro spagnolo Ci sono Ci sono alcuni Che tra l'altro Lavorano per El Ciringuito Che comunque È una televisione Molto vicina A Real Madrid Che hanno detto Sì sti qua si vantano Del triplete Noi abbiamo 13 Champions League Questi qui sono il Chievo Verona Possiamo paragonare L'Inter Come il Chievo Verona Si può paragonare All'Inter Con l'Inter E la Madrid Quindi Capite che Vabbè A parte questo Questo è Ragazzi Bisogna saper trattare E bisogna farsi Amici Certe società Amiche Certe società Perché Ad esempio La Juventus Ha ottimi Cazzo Ha ottimi rapporti Con Il Real Madrid Il Bayern Monaco Che sono due società Top L'Inter Di sicuro Da Comunque Andrà questa trattativa Tra Modice Real Madrid E l'Inter Di sicuro L'Inter Poi avrà Molte difficoltà In futuro A imbastire Altre trattative Con il Real Madrid Ma anche Con altre società Top D'Europa Perché Hanno visto Come si sta comportando L'Inter Che poi appunto Ha ragione Real Madrid A dire Questi qui Non possono Permettersi Di aumentare L'ingaggio Fino a 19 milioni Con gli sponsor Perché dopo Il caso Neymar E il caso Mbappé C'è stato C'è stato Un cambiamento Della regola Dell'UEFA Perché non si può Appunto Far sì che Venga pagato L'ingaggio Per la maggior parte Da sponsor esterni La società Deve pagarsi Almeno il 61% Dell'ingaggio Ok Questo deve essere Chiaro Quindi se sono Non so 20 milioni Devono pagarsi Almeno I 12 milioni 13 milioni Non so Quanto è Il 61% Non voglio fare Il calcolo Veloce Così Però comunque Deve essere così E invece Loro stanno cercando Di raggirare Il fair play finanziario Come ha fatto Il Paris Saint Germain L'anno scorso L'UEFA Qui dovrebbe Secondo me Intervenire In maniera Seria Seria Perché Se con il Paris Saint Germain L'UEFA Avesse avuto Un atteggiamento Molto più severo Molto più severo Quest'anno Non ci sarebbero Stati i casi Milan E Inter E invece Se tu continui A Chiudere un occhio Chiudere due occhi Dare sanzioni Misere Poi vedrai Che purtroppo Ci saranno Altri Altri Casi Perché Non hai Non hai Come si dice In questi casi Punito uno Per Educarne 100 No Boh Vabbè Comunque detto questo Vi auguro Buona giornata a tutti Ci vedremo Probabilmente Oggi pomeriggio Per un video Post conferenza stampa Di Bonucci Non ne faccio mai Video del genere Però Sarò curioso Di vedere Cosa dirà Bonucci E poi Ne discuteremo insieme Vabbè Per il resto Ragazzi Cosa c'è da dire È sotto gli occhi Di tutti Come si è comportata La Juventus Con il caso Con la trattativa Ronaldo Sulla trattativa Ronaldo E come si è comportata Invece Inter Quindi Non mi resta Altro Da aggiungere Ok Buona giornata a tutti Sempre fino alla fine Forza di Juventus E niente Noi diamo Noi diamo lezioni di stile Anche Per quanto riguarda Il calcio Mercato Poco Da fare Noi diamo lezioni di stile Noi diamo lezioni di stile Ti Noi diamo lezioni di stile